... Io sono veramente felice e orgogliosa di avere qui sul palco questi fantastici amici il grandissimo batterista Mimmo Campanale Se volete i pisti sono a cassa, veramente non lo vedete All'organo è Bruno Montrone Alla chitarra a cui è già pronto Guido di Leone E alla tromba un grande amico Uno dei primi, dei primi no, però dai, uno degli insegnanti di tromba della scuola di giù, il pentagramma di Bari Eccellente Fabrizio Bosso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti